Servizi sociali a Torre del Greco, tante le polemiche negli ultimi giorni, oggi si è lavorato al piano di zona. Come si è proceduto? Questa mattina avevamo un incontro, ero stata convocata assieme al dirigente per un incontro, ma solo di forma, non di sostanza, prodromico all'approvazione della delibera che dovrebbe passare domani in Consiglio. E rispetto alla delibera per l'approvazione o la ratifica del piano di zona, rispetto alla quale ci si augura, non c'è nessun tipo di problema, non ci sia nessun tipo di problema, anche perché appunto, le ripeto, si tratta di una ratifica, la Regione ha omologato il piano di zona, ha dato il decreto di conformità, però chiaramente per una questione di iter burocratico va inserita, deve passare per la Giunta e poi per il Consiglio, dopodiché diventa operativo. E partiranno tutti i servizi, a parte che insomma, voglio dire, alcuni di questi sono già partiti. Caos invece venerdì nei uffici dei Munini Marzoli, si è arrivati all'incontro con i genitori che si erano presentati quella mattina? Sì, sì, li ho incontrati e li ho rassicurati. Mi è anche un po' dispiaciuto questo atteggiamento, voglio dire, di ribellione, laddove io ho sempre mostrato una grande disponibilità, tant'è che hanno il mio numero personale. Vabbè, capisco perché appunto emotivamente queste mamme si agitano, perché capisco che il problema è soprattutto loro. Quindi ci siamo, le ho incontrate, ho risposto alle loro domande, alle loro perplessità e ritengo, ritengo di essere stata piuttosto chiara e soprattutto rassicurante, perché di fatto loro vogliono appunto assicurazioni da parte dell'ente di una partecipazione anche emotiva oltre che materiale naturalmente. E quindi questo tipo di rassicurazione io spero di averglielo dato. In ogni caso a breve partiremo con il progetto ITE a spasso per i parchi. Sono già intervenuta per, quindi sarebbe una ripetizione, l'ho già fatto presso la vostra sede dove ho spiegato tutti quelli che erano gli interventi e saranno gli interventi a breve. E quindi adesso possiamo annunciare che i due interventi del progetto ITE a questione di giorni, uno mi pare il 5 luglio è stato fissato e l'altro successivamente per la possibilità della partecipazione delle aziende per uno stage formativo per i soggetti portatori di handicap o comunque diversamente abili, con la previsione addirittura di un'indennità di 500 euro al mese per questi ragazzi che quindi contemporaneamente potranno imparare un lavoro e potranno anche portare a casa un po' di soldini per una questione loro di soddisfazione loro. Quindi noi ci stiamo muovendo, la macchina burocratica non è facile, io è questo che vorrei far capire alle persone, questo ente è molto sensibile e il mio ufficio è molto sensibile, ci attiviamo, veramente lavoriamo tutti i giorni per portare avanti questo discorso di tutti i servizi legati alle politiche sociali, quindi io ce la metto tutta.